Ho provato a suonare con Tidal in streaming. In questo video ciò che ne è venuto fuori e alcune considerazioni al riguardo anche al discorso di suonare con i servizi di streaming. Ma prima iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Abbiamo parlato anni fa di come Tidal ancora non funzioni al dovere sia leggermente indietro ad altri servizi di streaming come Spotify ed Apple Music. A distanza di anni qualcosa è cambiato, qualcosa è stato migliorato, qualcosa invece è rimasto esattamente come era. Però c'è un motivo importante per cui c'è assolutamente bisogno di un video di aggiornamento e riguarda il discorso dell'utilizzare servizi di streaming nei software per DJ o nelle console che li supportano. Abbiamo parlato anche di come Spotify per un periodo abbia concesso la possibilità di essere utilizzato da applicazioni per DJ. Poi questo permesso sia stato negato ma ancora oggi per chi ha quella versione di software e non ha fatto aggiornamenti continua a funzionare. Il problema è per chi vuole iscriversi oggi e utilizzare oggi da zero un servizio come Spotify da cui pescare per inserire i brani nel proprio deck nell'applicazione. Ecco che in questo senso si inserisce Tidal già da un po' di tempo a questa parte. La prima collaborazione di Tidal importante è stata con Danone inserendo la possibilità nel software proprietario Prime di pescare dal catalogo di Tidal se c'è un abbonamento. Quindi a partire dalla Danone Prime 4 e anche nei lettori successivi si può collegare se è presente una connessione e al proprio profilo su Tidal e caricare i brani dallo streaming. Di lì in poi Tidal ha stretto delle partnership importanti con tutti i principali software house per DJ. Ecco che in particolare Tidal è supportato su Rekordbox e anche su Serato, Tractor eccetera. C'è un video fatto molto bene su come scaricare e installare Tidal su Rekordbox quindi non starò a rifare lo stesso video preferisco mettere il link della pagina di questo collega perché comunque se un video è ben fatto non c'è bisogno che dica le stesse parole solo perché lo devo fare io. In descrizione trovi il modo di installare Tidal su Rekordbox. A questo punto ho deciso di volerlo provare questo servizio e di volerlo provare su un evento perché è inutile che lo provi a casa. Tidal concede due tipi di abbonamento a 9,90 comunque con qualità hi-fi quindi tendenzialmente superiore a Spotify e posso dire che è effettivamente così come qualità audio dei brani e poi c'è il servizio master a 19,90 che garantisce una qualità ancora più importante ancora maggiore e delle ripartizioni più importanti direttamente agli artisti quindi in qualche modo cerca di giustificare il fatto di essere il servizio di streaming degli artisti per gli artisti. Io comunque ho fatto l'abbonamento hi-fi a 9,90 con un mese gratuito e l'ho provato con il mio virtual dj. Ovviamente avevo tutta la mia musica dietro come backup anche alternando però ero interessato a vedere come funziona Tidal in serata se è affidabile, tempi di caricamento eccetera, come le tracce vengono caricate nel deck e così via. un'altra particolarità è che come faccio a trasferire la mia playlist se ho sempre usato Spotify su Tidal ecco che c'è un servizio che è pubblicizzato direttamente dal sito ufficiale di Tidal quindi non è niente di illegale perché altrimenti non sarebbe proprio lì in bella vista che è TuneMyMusic che è un servizio semplicissimo vai sul sito TuneMyMusic.com, selezioni la playlist di partenza, selezioni il servizio di streaming di arrivo quindi dovrai essere loggato a quest'altro, ti carica le tracce, quelle che ci sono di solito quasi tutte quelle che non ci sono ti viene una X sopra perché non è detto che corrispondano esattamente e ti ritrovi sul tuo profilo la nuova playlist che è direttamente raggiungibile sul software quindi nel giro di veramente pochi secondi puoi caricare tutte le tue playlist, una per volta magari e le trovi direttamente sul tuo profilo Tidal e sul software che stai usando beh, devo dire che il test è stato superato brillantemente non ho mai avuto nessun tipo di problema, le tracce suonano bene l'unica attenzione che bisogna fare è che il caricamento sia completo quindi il caricamento sul deck e poi il caricamento della traccia ci sono due volte la forma d'onda che scorre ma con una connessione semplicissima io ho un telefono che non prende quasi mai quindi è stato anche un test attendibile per quello perché non c'è bisogno di avere una super linea, un super wifi eccetera con una linea normalissima te in pochi secondi cerchi la traccia te la trova la metti sul deck l'ascolti la suoni aumenti velocità cambi tonalità fai gli effetti tutto e sinceramente funziona e funziona proprio bene ma io non mi trovo bene a suonare online non me la sento niente ti vieta di avere la tua musica più il software con la musica online quindi così come puoi caricare le tracce dal computer sui deck e anche dallo streaming allo stesso modo puoi avere i tuoi lettori dove carichi la musica su chiavetta o lo colleghi al computer di volta a volta è una cosa molto rapida, molto funzionale ecco io credo in questo modo Tidal possa veramente essere una valida alternativa a Spotify perché è vero che rimane un repertorio leggermente meno fornito soprattutto in altri generi però per quanto riguarda la stragrande maggioranza della musica è presente sia su Spotify che su Tidal non c'è ancora la possibilità del download quindi la possibilità di caricare offline le tracce sia dal Tidal software che a maggior ragione su il software per DJ e quindi ci sarà sempre bisogno della connessione anche perché in questo modo è più puntuale il fatto della ripartizione se la tua traccia viene suonata l'artista percepisce qualcosa e quindi se lo fai offline la stessa traccia la suoni 100 volte e non c'è una correlazione con il fatto che tu stia suonando una traccia e che sia percepito dal software e dall'artista proprietario dei diritti credo sia questo il motivo per cui non è stata inserita la possibilità dello scaricamento però online con una connessione normalissima Tidal funziona e le tracce le puoi inserire sulla stragrande maggioranza dei software per DJ con praticamente nessuna differenza se hai la traccia originale sul computer rispetto che la traccia presa online sul momento ti consiglio di valutare questa opportunità se ti trovi in una situazione di voler provare a farti un repertorio a questo punto praticamente completo lì il problema è un altro che devi imparare a selezionare la musica perché avendo a disposizione tutto il rischio è di non trovare niente devi sapere cosa cercare però quello è un altro problema il software ti consente di utilizzare tutta la musica possibile di tantissime versioni e di suonarla anche senza averla mai sentita sul momento e secondo me potrebbe dare una nuova forza una nuova vitalità ad un servizio di streaming che ancora non ha trovato la sua collocazione come dire in una lotta a livello mondiale con i grandi player fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continui a seguirmi qui su Essere DJ Oggi ciao 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 ciao